Quello che succede in Medio Oriente, l'attacco questa mattina ora italiana all'alba, le 4 del mattino, l'attacco di Israele sull'Iran, qualcuno l'ha definito debole, cercheremo di capire se è in atto una de-escalation o invece un nuovo passo verso l'escalation, lo faremo con i nostri ospiti e lo faremo anche a partire dalle dichiarazioni che arrivano dal vertice del G7. Sapete che a Capri erano riuniti i ministri degli esteri del G7, una riunione presieruta dal ministro Tajani, sentiremo le parole che arrivano appunto da Capri e poi ancora si è concluso invece il vertice straordinario europeo, quello al quale ha partecipato anche Giorgio Meloni e da lì pure arrivano le parole relative all'Europa, quello che deve essere alla figura di Draghi. Sentiremo le dichiarazioni di Meloni, ragioneremo di quelle che sono le candidature europee anche perché c'è una qualche polemica o comunque fa discutere la candidatura di Ilaria Salis, a questo punto è certo, Luca Sappino ci farà capire cosa è accaduto perché ieri c'erano state una serie di smentite e poi ancora si dibatte sull'emendamento relativo alla 194 anche su quello torniamo così come torniamo sulla Basilicata perché come sapete si vota. Era stata al centro dell'attenzione per qualche giorno, adesso ci tornerà. Fra pochissimo cominciamo, torno a trovarci Gianrico Carofiglio, cominciamo con Paolo Mieri e Maurizio De Giovanni, vi aspetto tra pochissimo. Buon pomeriggio, bentrovati, bentornati a Tagadà, buon pomeriggio ad Alessio Orsinger. Buon pomeriggio Tiziane, buon venerdì a chi ci sta guardando. Allora oggi voglio partire da una foto, una foto straordinaria che è stata premiata come foto dell'anno dalla World Press Photo Foundation ed è una foto che come recita la didascalia è la pietà di Michelangelo dei giorni nostri. Ora le persone ritratte sono Inas, una donna di 36 anni che culla tra le braccia la nipote, una bambina di nome Sali. Non ci sono lacrime, non c'è sangue e la cosa che colpisce è che è come se nella foto fossero cancellate queste due persone, sono straordinariamente potenti e insieme non hanno un viso, non hanno un'espressione. E quindi ci rimandano a tutte le vite cancellate con le guerre e con la guerra di Gaza. Ovviamente è una foto che accresce il nostro spaesamento in una giornata come quella di oggi, in cui veniamo a sapere che c'è stata la risposta di Israele all'Iran, una risposta che qualcuno ha definito debole, qualcuno dice è l'inizio della de-escalation, qualcun altro dice no, no, è ancora un passo dell'escalation. Questa mattina all'alba è arrivato l'attacco, appunto la risposta di Israele all'Iran ed è arrivato dopo una giornata, quella di ieri, densa di incontri politici internazionali perché c'era stato il Consiglio europeo straordinario al quale ha partecipato anche Giorgio Meloni e perché era in corso e è finito questa mattina a Capri il vertice, il G7, il vertice dei ministri degli esteri e inevitabilmente la notizia dell'attacco ha preso il centro dell'attenzione. Parleremo di tutto questo, così come parleremo delle vicende italiane, le candidature europee, il nome di Laria Salis, ma anche la questione legata alla 194 ancora fa discutere, verrà a trovarci Gianrico Carofiglio, insomma molte cose da raccontarvi, comprese le elezioni in Basilicata che arrivano tra pochissimo. Intanto però voglio salutare Paolo Mieli, ditemi se è buono il collegamento perché non lo vedo ancora. arriverà, arriverà, appunto non lo vedo ancora, e voglio salutare Maurizio De Giovanni, scrittore, amico di questo programma, attento osservatore della realtà. Ben trovato Maurizio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio, Diziana. Senti, ti chiedo, non lo so, io ho visto quella foto e voglio ricordare tra l'altro il nome del fotografo, Mohamed Salem, e non ho potuto fare a meno di partire da lì, da quel corpicino abbracciato e cullato, no? Hai fatto benissimo, hai fatto benissimo, hai fatto benissimo perché a mio modo di vedere la potenza simbolica di questa fotografia senza identità, senza persone, ma più popolata di ogni altra fotografia che si possa immaginare. Una fotografia di una potenza inaudita, di un valore straordinario. Io, guardando questa fotografia e provandole lo strazio enorme che si deve provare, mi sento consolidato nell'idea che ho che nessuno di noi è innocente. Nessuno è innocente in questo momento atroce in cui noi siamo testimoni di uno sterminio. Perché siamo testimoni di uno sterminio? E non si può negare, di fronte alle cifre, di fronte ai numeri, 40.000 vittime di cui oltre 15.000 minori di età inferiore ai 18 anni. Ma infatti è quel sudario piccolo, no? Che ti toglie il fiato. Senza vedere il viso, senza vedere nulla, ma quel sudario così piccolo ti toglie il fiato. Ma vedendo tutto, ma vedendo tutto, vedendo qualcosa che ci porteremo sulle coscienze, la comunità internazionale è inerte. A conto di quello che voi ci raccontate, dei contatti, dei confronti, dei dialoghi, non è possibile immaginare che questa cosa stia continuando. Quando finirà, finisse anche oggi, finisse anche oggi, finisse in questo momento, avrebbe comunque registrato un numero di vittime assolutamente sproporzionato. Il numero di vittime civili, di persone normali, che non sono soldati, che non hanno scelto di dire la guerra, che non hanno scelto di combattere, che vivono nel loro luogo di origine, dove sono nati, dove sono cresciuti. Questo è inaccettabile. Senza prendere parte. Allora, siamo responsabili, sembra essere il grido di quei ragazzi che stamattina sono andati a protestare a Napoli e protestavano contro il G7. C'era Capri, cercavano di accedere al molo Beverello. Alessio, abbiamo notizie? Allora, Tiziana, cercavano di accedere al molo, come dicevi tu. Il corteo si chiama Fermiamo il G7 del genocidio. È partito da Piazza Garibaldi, sono stati esposti gli striscioni, ci sono stati momenti di tensione con la polizia. Facciamo così, vediamo i momenti di tensione. Sono immagini fresche. Perfetto. Grazie a tutti. Maurizio, che effetto ti fanno queste proteste? Che racconto è? Vedere la polizia del settore disommossa e vedere una protesta così vehemente, chiaramente comporta civilmente una riprovazione. Non è accettabile, naturalmente, nessuna forma di violenza, anche se è contro la violenza. Ma io credo che comunque le persone riunite a Capri debbano tenere conto di questo. Loro rappresentano anche queste persone. Loro debbano rendersi conto che l'Occidente non può più rimanere in silenzio di fronte a quelle morti. Noi quotidianamente registriamo. Cioè, fammi capire, diciamo, ci sono due elementi, no? Perché poi queste proteste, in qualche modo, ci rimandano le proteste nelle università, che pure stiamo vedendo e raccontando da giorni, da settimane. Tu dici c'è il merito rispetto al quale le figure che sono riunite al G7 non possono far finta di nulla. E poi c'è un metodo che può essere sbagliato e quindi eventualmente da criticare, da censurare. Esattamente, esattamente. Però è anche vero che la spontaneità di queste proteste, uniformi su tutto il territorio, perché sono proteste che noi registriamo oggi in prossimità del G7, ma le abbiamo viste, le abbiamo viste tante, e in tutte le città del Paese, comportano che noi siamo testimoni attraverso un'informazione che è diversa da quella che era in passato, no? Adesso noi vediamo, e l'immagine che tu hai proposto in apertura di trasmissione, che secondo me è molto notevolmente, è un'immagine che non lascia, non può lasciare indifferente. È un'immagine straziante, che è una storia. Noi non possiamo fare i numeri e basta. I numeri sono composti da singoli, da individui. Cioè questa donna è spezzata in due, dal dolore per la morte di una bambina, che non può essere dimenticata e non può passare inosservata. L'Occidente sta reagendo. Quello che questi ragazzi al porto di Napoli volevano dimostrare è proprio l'inaccettabilità di una situazione che non si può più ascoltare in silenzio. Che i potenti del mondo accolgano questa, perché loro rappresentano, e dovrebbero ricordarselo, rappresentano il popolo. Sono stati eletti. Fammi salutare Paolo Mieli, giornalista, storico, scrittore, firma del Corriere della Sera. Ben trovato Paolo, sono contenta di ritrovarti. Buongiorno, buongiorno. Senti, siamo partiti da una foto che, non so, visto che sistemavano il collegamento già da un paio di minuti, quindi magari avrei avuto modo di sentire le parole di Maurizio Reggiovanni, siamo partiti da questa foto che stiamo inquadrando, che ci ha molto turbato, perché è la pietà, come recita la didascalia, è la pietà del Michelangelo dei giorni nostri, aggiornata, ed è una zia che culla la nipote morta. Siamo partiti da questa foto e siamo passati per la protesta a Napoli oggi. Il messaggio recapitato alle persone riunite al G7 che si tiene, si è tenuto a Capri. Paolo? Anch'io sono colpitissimo da questa foto, però sarei ipocrita se dicessi che sono stato colpito anche da altre foto durante gli ultimi sei mesi e se, come mi sembra di aver capito, questi giovani chiedono ai governanti la tregua e la restituzione degli ostaggi, ho capito bene, no? C'è anche questo, la restituzione degli ostaggi rapiti, quei 134, rapiti il 7 ottobre, beh, insomma, questa è una cosa importante. Tregua che si accompagna alla restituzione degli ostaggi, tutti, compresi le salme, perché gli israeliani vogliono poter seppellire i loro morti, fare l'esame del DNA e vedere se davvero sono quelli dell'ostaggio e non gli danno dei cadaveri a caso. E sì, insomma, quella foto mi fa impressione perché è una foto simbolica e credo che anche De Giovanni sia d'accordo sul fatto che la restituzione degli ostaggi sia un elemento fondamentale per stabilire una tregua. perché sennò si offre a Israele il pretesto che sta cercando i suoi ostaggi, sta cercando da sette mesi, sette mesi non sono pochi e che, certo, un macello che ne è stato è terribile, però quei 134 ostaggi devo tornare a casa e chiedere, insomma, sono io che chiedo a voi la vostra opinione, sì o no? De Giovanni? Certamente sì, certamente sì e il direttore, che saluto con grande affetto, il direttore dice benissimo che gli ostaggi sono un'arma nelle mani del governo israeliano, un'arma per poter reagire, poter operare nella maniera in cui sta linearmente operando da sette mesi a questa parte. Gli ostaggi, secondo me, sono una grande differenza fra Hamas e il popolo palestinese e la grande differenza tra coloro che stanno subendo questa terribile condizione e coloro che invece hanno posto in essere e che lucrano di fatto sul conflitto. Gli ostaggi devono essere rilasciati immediatamente, innanzitutto perché è giusto, innanzitutto perché è umano, innanzitutto perché è fondamentale che siano rilasciati. Dopodiché deve immediatamente cessare il fuoco e le forze internazionali dovrebbero premere per questo, ma ovviamente a Maurizio De Giovanni non sfugge che Paolo Mieli con la sua sapienza inserisce questo elemento perché molto spesso in quelle proteste la questione del 7 ottobre sfugge e la questione degli ostaggi a sua volta sfugge, quindi Paolo Mieli la sottolinea con la sua sapienza, ribadisco, per questo preciso motivo. Dopodiché Paolo mi deve aiutare a capire cos'è successo questa mattina all'alba, intanto gli ultimi aggiornamenti. Sì Tiziana, non abbiamo ancora dichiarazioni né del governo né dell'esercito israeliano sulla dinamica e sugli obiettivi che erano stati prefissati, però il Jerusalem Post parla anche di missili a lungo raggio lanciati da un velivolo che avrebbero colpito la base di Isfahan in Iran. Abbiamo pochi pochi secondi delle immagini di questa notte alle 4 e mezza, vediamole insieme. Ora italiana a 4 e mezza. Ora italiana, esatto. Paolo, comincio dalla dichiarazione del ministro israeliano Bengvir che sui social ha scritto che l'attacco è stato un attacco moscio, adesso al di là della scelta lessicale. A chi parla Bengvir? Per chi c'è posta? E cosa significa quello che dice? Parla... non è un messaggio molto importante, secondo me il messaggio importante della giornata è quello esplicito o implicito dell'Iran e di tutte le cancellerie del mondo arabo occidentale che sostanzialmente hanno detto se questa risposta sta bene così chiudiamola qui nel senso che questo attacco israeliano contiene dei messaggi. Il messaggio è sappiamo dove sono le vostre centrali, non abbiamo difficoltà a colpirle e a compiere un'ecatombe e quindi diciamo fa il paio con quello che era stato sabato scorso il messaggio iraniano noi possiamo colpirvi questa volta vi abbiamo avvertito per cui il 99% dei nostri missili li avete parati. però innanzitutto ne è caduto sì innanzitutto ne è caduto un 1% che erano 9 e qui 9 poi hanno detto nei giorni successivi la prossima volta potrebbero avere una testata sporca cioè una testata loro non hanno ancora l'arma nucleare definitiva però possono usare materiale radioattivo o altro tipo di materiale perché quei 9 diventino 30 e 30 missili sporchi che cadono in un paese così piccolo significa provocare un'ecatomba allora secondo me sono stati due messaggi che si sono mandati ma c'è anche se vuoi adesso io come si chiama descalation come dice qualcuno inizio della descalation oppure si chiama passi verso l'escalation perché io ho sentito di tutto da stanti no allora se si ferma qui perché poi bisogna vedere se si ferma qui è sicuramente de-escalation perché due atti di guerra che l'avversario dice grazie va bene così insomma e soprattutto sono due volte che l'Iran dice per noi si può fermare qui è evidente che è una de-escalation rispetto a quello che si aspettava la redazione di Tagadà no ma figurati la redazione di Tagadà fa il tifo perché ci sia la descalation assoluta ma non il tifo non parlo del tifo parlo della prensione non sto parlando del tifo figurati mi conosco insomma aspetta aspetta che forse vediamo le reazioni nel mondo iraniano Alessio sì perché come diceva il direttore Mieli è la terza volta da questa mattina che fanno sapere dall'Iran che ci sarà una commissione di indagine ad hoc che ritengono assurda la pista israeliana l'unica a parlare di escalation è Hamas uscita poco fa con una nota riportata dal Times of Israel l'aggressione di Israele all'Iran è un escalation nella regione però sono isolati rispetto al resto del mondo arabo e guardate come la tv iraniana ha commentato i fatti di questa notte ciao oggi è 19 aprile sono le 5.45 del mattino nella regione di Zardejan a Isfahan siamo vicino all'impianto di energia nucleare abbiamo sentito degli spari alle 4.45 non stava succedendo niente di particolare era la difesa aerea questi ragazzi che state guardando lì e anche laggiù è tutto a posto non sta succedendo niente almeno da dove siamo noi non è stato colpito danneggiato nulla niente di niente Paolo aggiungo elementi sempre che le voci si rincorrono da stamattina rispetto al significato di questo tipo di attacco e c'è chi sostiene che Israele ha usato la mano morbida perché avrebbe ottenuto così dagli americani seguimi è un ragionamento un po' articolato di poter fare finalmente come ritiene l'attacco a Rafa siamo dalle parti della fantapolitica ci può essere qualcosa di reale? Secondo me l'attacco a Rafa come noi ce l'immaginiamo non esiste nel senso che è ovvio che la missione è già da giorni in atto la missione israeliana in atto anche a Rafa perché se tu vuoi decapitare Hamas e decapitare Hamas significa non per prenderti una vendetta del 7 ottobre per poter riportare la Gaza in una situazione normale consegnarla ai paesi arabi che poi ne facciano l'amministra con un'amministrazione palestinese con l'autorità nazionale palestinese però se tu la lasci in mano ad Hamas si torna al punto di partenza c'è una situazione di rabbia infinita di Hamas dentro la striscia di Gaza dove sono i capi perché anche su quello guarda questo lo decideranno lo decideranno non gli israeliani che sai lo possono dire pure per propaganda abbiamo vinto oppure abbiamo perso abbiamo decapitato no lo decideranno i paesi arabi se i paesi arabi entreranno ad Hamas e ne prenderanno la gestione come mai a nome dei palestinesi per metterci un'autorità palestinese perché una cosa di cui noi non teniamo conto è che i paesi arabi hanno una paura di Hamas maggiore di quella che ha Israele questi gruppi adesso diciamola più genericamente jihadisti si comportano nei confronti dei governanti arabi come si comportano nei confronti dei governanti israeliani solo che quelli israeliani a volte riescono a non farsi prendere di sorpresa quelli arabi è meno quindi il momento il giudizio se Hamas c'è o non c'è lo darà lo avremo a quel punto tu dici la Giordania voglio sentire anche da Maurizio De Giovanni prima di cambiare pagina perché poi abbiamo molte notizie ancora che vorrei commentare con voi però volevo sentire da Maurizio tu che idea ti sei fatto stamattina quando ti sei svegliato hai sentito e c'era stata la risposta perché io ti metto a parte del pensiero che ho io c'era stato un primo attacco e poi la risposta il secondo attacco e poi la risposta di risposta in risposta io ho il terrore che qualcuno semplicemente sbagli un calcolo e diciamo anche se l'intenzione è di dare una risposta contenuta poi la risposta sia diversa da quello che ci si aspettava però dimmi tu che impressione è sicuramente un'esibizione muscolare è un'esibizione muscolare da parte di entrambi io concordo con il direttore entrambi hanno fatto vedere quello che potrebbe essere e che si sceglie di non fare quindi da questo punto di vista è sicuramente un'esibizione muscolare non capisco in che modo un'esibizione muscolare possa essere definito un momento di de-escalation è pur sempre una dimostrazione di forza di forza nascosta di forza possibile di forza non espressa ma comunque un'esibizione di ostilità e di forza un'esibizione di ostilità e di forza in una regione in cui ci sono degli elementi e la massa è principale e avrebbero tutto l'interesse a che queste esibizioni di forza poi prendessero la piega che nessuno di noi si aspetta quindi a me sembra uno di quei due duelli al primo sangue che c'erano nell'ottocento sai quando ci si fermava la prima ferita superficiale ma era pur sempre un duello era pur sempre un modo ostile di risolvere una controversia e non c'è dubbio che di duello si tratta Alessio Tiziana vi porto nella campagna elettorale dentro la campagna elettorale per l'europea il caso di Ilaria Salis la giovane insegnante che è detenuta in Ungheria qui abbiamo il profeta Mieli ha sbagliato il partito ma la profezia era giusta arrivo arrivo Paolo ma conta la profezia non il partito però sai noi per precisione ricordiamo tutto sarà candidata Salis con Alleanza Verdi Sinistra e Matteo Salvini ha detto spero che il generale Vannacci accetti di essere candidato con noi della Lega perché mi piacerebbe che il mondo di Vannacci si confrontasse con quello che rappresenta Ilaria Salis una dichiarazione che ha suscitato le ire di Alleanza Verdi Sinistra con l'onorevole Piccolotti che ha detto è la prova che Salvini vaneggia me lo fate vedere ce l'abbiamo la frase di Salvini che magari perché io ho sempre bisogno di Paolo Miele mi deve spiegare le cose recuperala per bene abbiamo proprio la clip abbiamo la clip di Salvini sentiamolo sentiamolo io rispetto le scelte democratiche di tutte quindi se se una persona che attualmente è purtroppo detenuta in Ungheria vuole candidarsi con la sinistra in Europa libera di farlo spero che il generale Vannacci accetti di essere candidato con la Lega perché mi piacerebbe un confronto fra un uomo che ha portato ordine sicurezza e onore italiano in giro per il mondo e Ilaria Salis a parte che al momento mi pare improbabile sempre perché Ilaria Salis è detenuta però diciamo prego Paolo mi aiuti allora io innanzitutto mi complimento pubblicamente con Bonelli perché credo che sia lui l'autore dell'operazione ma comunque non si è capito bene frato Ianni più sinistra italiana e poi alleanza verde sinistra ieri Bonelli aveva detto che non era non c'era di ammettura insomma comunque è quell'area lì ma comunque è quell'area lì perché è riuscita a portare mentre invece col PD come ricorderai ne abbiamo parlato proprio in questa trasmissione c'erano state maggiori difficoltà ma l'obiettivo era chiaro che sarebbe andato in porto e secondo me il paragone proposto per via subliminale da Salvini non ha alcun senso nel senso che Ilaria Salis non viene candidata per adesione alle sue idee o ai suoi comportamenti nessuno dei militanti dell'alleanza verde sinistra va in giro per l'Europa a contrastare nella maniera di Ilaria Salis i gruppi neonazisti Ilaria Salis viene candidata come a suo tempo fu proposto di candidare altri detenuti illustri per tirarla fuori dalla galera o darle un'occasione di non presentarsi con i ceppi come l'abbiamo vista con quel collare con i ceppi e il senso è questo quindi la visione del mondo di mentre vannacci se lo candideranno perché c'è subullo nella Lega però alla fine vedrai che candideranno anche lui lo candidano per la sua visione del mondo è come se Casomai si candida Ilaria Salis per ricordare all'Europa che esiste un paese l'Ungheria dove detenuti vengono trattati in quel modo e che quel modo per noi non è accettabile questo al limite il messaggio certo non è il mondo di Ilaria Salis mi pare chiaro il ragionamento Paolo Miel e voglio sentire anche Maurizio su questo io sono d'accordissimo con la lettura perfetta del direttore rilevo che questo utilizzo elettorale contribuisce all'allontanamento dalla politica dei cittadini alle cifre enormi di estensionismo a cui siamo arrivati vannacci viene proposto da Salvini per la sua visione del mondo la sua visione del mondo non certo in quanto generale e non certo in quanto uomo che porta ordine nel mondo a nome dell'Italia con onore ma da uno che ha scritto un libro in cui i principi del sessismo del razzismo più becero e profondo sono in qualche modo codificati viene proposto così non è che si propone un altro generale si propone lo scrittore di un libro che è atroce dalla prima all'ultima parola e lo dico sulla base rappresentando solo me stesso per fortuna ma lo dico con assoluta con assoluta certezza perché per per un fatto culturale l'ho letto e ne ho un ricordo fai bene a dirlo perché insomma una delle reazioni di solito è ma tu l'hai letto il libro perché ne parlate male senza averlo letto io non l'ho letto l'ho letto e dice che non ne condivide una parola nemmeno una parola e nemmeno la putteggiatura è proprio il caso poi invece la salis ma anche l'utilizzo elettorale per la salis io condivido che debba essere sperito qualsiasi tentativo per togliere la salis da quelle condizioni però non ti piace il meccanismo? non mi piace in genere l'utilizzo dell'aspetto elettorale per affermare certi principi certo se è l'unico modo di togliere da quella condizione io ricordo che la salis è una estra elementare ed è stata arrestata perché in quanto pericolosa picchiatrice perché avrebbe picchiato in maniera grame due nelboruti neonazisti nella giornata dell'onore che è la celebrazione del neonazismo che viene effettuata in Ungheria quindi c'è anche questo aspetto diciamo da considerare allora Alessio abbiamo ancora notizie prima di salutare gli ospiti Giorgia Meloni Tiziana tra l'altro Matteo Salvini nelle anticipazioni del suo libro ha detto che se è nato il governo Meloni il merito è di Salvini stesso e di Silvio Berlusconi c'è anche tutta una storia di una telefonata e lui non era raggiungibile è molto interessante tutta quella parte sento che nei prossimi giorni ne parleremo Meloni però è intervenuta e le sue parole stanno facendo ancora discutere sul futuro della leadership europea e su Draghi vediamo la clip io sono contenta che chiaramente Mario Draghi è una persona molto autorevole sono contenta che si parli di un italiano per un ruolo del genere dopodiché io continuo a dire una cosa banale e cioè che tutto questo dibattito qui è filosofia questa tendenza a tentare di decidere chi fa cosa prima che i cittadini votano votino è una tendenza sulla quale non mi troverete mai per cui a me non interessa questo dibattito e non parteciperò a questo dibattito quello che mi interessa invece è che sia Enrico Letta da quello che abbiamo visto oggi sia Mario Draghi da quello dalle anticipazioni insomma dalle dichiarazioni che lui ha fatto di un altro rapporto che è quello sulla competitività cioè due persone considerate semplifichiamo europeiste voi le definireste così in realtà ci dicono che l'Europa va cambiata e questo è un dibattito molto interessante ed è il dibattito che va fatto e mi aprite Luca Sappino Luca reazioni a queste parole allora devo dirti Tiziana che il libro che stavate citando cioè il libro che esce il 30 aprile di Matteo Salvini in cui si racconta come una riunione un'asse tra Salvini e Berlusconi avrebbe posto fine al governo di Mario Draghi è citatissimo in queste ore da dichiarazioni date in batteria tutte uguali di decine di deputati della Lega diciamo da Crippa Toccalini Gliezzi e anche Centinaio ha rilanciato quell'estratto del libro aggiungendo porteremo la linea Salvini Berlusconi quindi antidraghi in Europa ecco qua serve la profezia di Mieli alla fine Draghi no Draghi profezia non ne faccio perché aspettiamo la faccio dopo il risultato delle elezioni almeno vediamo come capito allora ti piace vincere facile e adesso che vale la confezia ma no perché Draghi non ha un partito ma no ma certo la confezione se è possibile o no e quindi no dico non mi avvantaggio con il risultato dell'europeo solo vedo se vincoli che ho nazisti tutta Europa guarda che tutto è possibile allora non riesco a fare non riesco a fare una previsione dico solo che tutto questo can can intorno al libro di Salvini o alla rivelazione di Salvini che sono loro che hanno fatto cadere Draghi e che non lo sappiamo lo sappiamo benissimo a me non mi sembra una rivelazione mi sembra un tentativo alla vigilia delle elezioni di sdossarsi con l'immagine quella sì che gli ha fatto perdere voti di aver preso parte al governo Draghi nel senso che loro l'hanno fatto cadere perché ne facevano parte mentre la Meloni prende voti perché non ne faceva parte si è capolto cioè la Meloni è stata la più leale con Draghi non facendo parte del suo governo e anche la dichiarazione che ha fatto che voi avete mandato in onda è una la dichiarazione più draghiana che si può fare ma sì è filosofia non fatemi dire mentre invece l'azione di Salvini questa volta vedo che Tagliani l'ha lasciato correre pur chiamato come Corri tra l'altro doveva chiamare anche Lupi doveva chiamare perché il povero Lupi pure lui ha fatto nascere il governo Meloni quindi è ingiusto con Lupi cioè lui chiama Tagliani un po' di grado ma c'è tutto il racconto delle telefonate delle insistenze internazionali loro che venivano inseguiti da telefonate insomma è divertente da sicuro Paolo ne parleremo nei prossimi giorni secondo me c'è di che parlare intanto però saluto io sono pronto sono pronto lo so lo so lo so e noi infatti richiamiamo presto presto saluto Paolo Mieli saluto Maurizio De Giovanni aspetta mi fai dire un'ultima cosa prima di andarmene che io considero Maurizio De Giovanni non giallista il più grande scrittore italiano almeno uno dei tre più grandi scrittori italiani non l'ho detto all'inizio perché sennò sembra che me lo volevo ingraziare e non volevo discutere casomai avesse molto opinioni diverse uno dei primi tre adesso che abbiamo finito fatemelo dire uno dei primi tre sì due in realtà però mettiamo tre lo vedi lo vedi ti stai avvicinando alla mia stima De Giovanni la prossima creatura letteraria quando arrivi in libreria? no fammi riprendere un attimo Diziana perché sono un po' sconcertato sei turbato piacevolmente da quello che dice il direttore sono molto emozionato dunque no io volevo soltanto dire che sono ammirato dalle capacità di Salvini di promuovere un libro lo dovrei assumere credo perché come a livello a livello di presentazione di un libro per venderlo è perfetto sia per il suo che per quello di Vannacci per l'altro sono veramente colpito hai imparato da Vannacci non mi hai detto quando arrivi in libreria col prossimo libro però torni e ci viene a dire che c'è il prossimo libro va bene 7 di maggio 7 di maggio e passare di Rizzo Falcone bene grazie Maurizio De Giovanni ricordo di Paolo Miel il secolo autoritario per capire meglio questo mondo nostro sempre più complesso grazie Paolo per essere stato con noi grazie Maurizio noi ci fermiamo grazie a voi grazie davvero eccoci qua di nuovo in studio ci hanno raggiunto Marianna Ricciardi Movimento 5 Stelle ben trovata grazie buongiorno Fabrizio Roncone firma del Corriere della Sera bentornato Fabrizio Sandro Iacometti firma di Libero bentornato in collegamento Raffaele Nevi Forza Italia ben trovato Buonasera buonasera a tutti Alessio il nostro sondaggio di oggi più tardi avremo un approfondimento Tiziana sul tema dell'immigrazione arrivano anche notizie in questo senso quindi vi stiamo chiedendo sulla pagina Instagram di Tagadà l'immigrazione è un'emergenza per l'Italia sì no non so votate e dopo approfondiamo allora Giorgia Meloni è rientrata da Bruxelles ieri abbiamo sentito le sue parole da Bruxelles poi vi farò anche sentire dei passaggi e oggi dovrebbe essere in Basilicata perché c'eravamo un attimo distratti ma lì si vota ci sono le elezioni ci aggiorna Luca Sappino Luca che appuntamento è quello di oggi poveriggio se non sbaglio fra un paio d'ore confermo 17.30 a potenza ci saranno tutti i leader del centrodestra nello schema classico di conclusione delle campagne elettorali dei candidati di centrodestra e mi verrebbe da dire che invece lo schema classico del centrosinistra è quello ognun per sé perché così è stata per l'altro schieramento in questi giorni ma rese conclude da sola la sola la campagna elettorale Conte c'è andato ieri c'è andato a Schlein mercoledì c'è andato Conte martedì era il giorno di Bersani come abbiamo documentato intercettando Bersani di fatto appena tornato dal treno col treno dalla Basilicata questa è diciamo l'agenda della politica oggi e Giorgia Melone abbiamo detto che però ieri era Bruxelles vi faccio sentire un passaggio io sono contenta che chiaramente Mario Draghi è una persona molto autorevole sono contenta che si parli di un italiano per un ruolo del genere dopodiché io continuo a dire una cosa banale e cioè che tutto questo dibattito qui è filosofia questa tendenza a tentare di decidere chi fa cosa prima che i cittadini votano votino è una tendenza sulla quale non mi troverete mai per cui a me non interessa questo dibattito e non parteciperò a questo dibattito quello che mi interessa invece è che sia Enrico Letta da quello che abbiamo visto oggi sia Mario Draghi da quello dalle anticipazioni insomma dalle dichiarazioni che lui ha fatto di un altro rapporto che è quello sulla competitività cioè due persone considerate semplifichiamo europeiste voi le definireste così in realtà ci dicono che l'Europa va cambiata e questo è un dibattito molto interessante ed è il dibattito che va fatto il dibattito che va fatto Fabrizio è l'Europa va cambiata dice Giorgia Meloni che gioco sta giocando che ruolo sta quali panni sta vestendo ma senti non lo so io adesso guardando questo scorcio di tua trasmissione mi pare di si possono dire un po' di cose che però forse sono elementi di riflessione intanto in Basilicata c'è la fotografia della politica italiana in questo momento no? cioè col centrodestra che è comunque compatto pieno di tensioni al suo interno gigantesche però quando si tratta di votare di andare ad acchiappare voti quindi vincere le elezioni e quindi potere il centrodestra si compatta sono bravissimi l'hanno sempre fatto sì l'hanno fatto quando c'era Berlusconi che era uno straordinario collante lo fanno adesso che Berlusconi non c'è lo fanno in ogni caso lo fanno in automatico il centrosinistra la fotografia è di una coalizione perché per modo di dire è un frullato ognun per sé però non mi fermerei a questa vicenda della Basilicata cioè la tornata elettorale regionale abbiamo visto che sembrava quella della Sardegna sembrava dovesse cambiare gli equilibri l'Abruzzo li ha ristabiliti cioè qui il punto vero sono e vengo alla tua domanda le europee eh già le europee rischiano io invece comincio ad avere il sospetto di essere una tornata elettorale che può portare qualche scossione cioè io non darei per scontato non starei ad ascoltare i sondaggi perché i sondaggi oggi ci regalano una fotografia grossomodo similare a quella delle politiche io non credo che sia così io per esempio ho una cioè tu dici è possibile che invece da lì arrivino dei messaggi che non ci aspettiamo io faccio il cronista di mestiere e ti dico quello che sento eh quello che vedo io comincio ad avere forte la sensazione che ci sarà un Espload di Forza Italia e l'Espload di Forza Italia può significare tante cose può significare che la sconfitta della Lega Fidonevi che sorride facciamo così però vediamo come le squadre perché tu ci porti dritti dritti dentro le europee allora viene da chiedersi come si presentano queste squadre no? e quali carte pensano di giocarsi i diversi partiti quale idea d'Europa sarebbe la prima cosa che dovremmo chiederci ma per il momento stiamo ancora a quali candidati mettiamola così allora andiamo a vedere perché diciamo si è parlato in particolare di due nomi Ilaria Salis nelle ultime ore il generale Vannacci dall'altra parte Maria Grazia Gerina come si va all'Europa ci sarà il suo nome sui manifesti elettorali Ilaria Salis detenuta a Budapest e candidata al Parlamento Europeo con Alleanza Verdi-Sinistra non potrà lasciare il carcere per fare campagna elettorale ma se sarà eletta l'Ungheria dovrà liberarla la politicizzazione di questa materia secondo me non so quanto aiuti il caso la risoluzione del caso in sé ma poi ovviamente ognuno fa le scelte che vuole fare particolarmente quelle che riguardano Ilaria Salis in sé una candidatura a cui aveva lavorato anche Elis Line alla fine sono stati Nicola Fratoianni Angelo Bonelli a intestarsi la campagna per la liberazione della maestra antifascista detenuta nelle carceri ungherese da più di un anno con l'accusa di aver partecipato al pestaggio a Budapest di alcuni militanti neonazisti spero che il generale vannacci accetti di essere candidato con la Lega perché mi piacerebbe un confronto fra un uomo che ha portato ordine sicurezza e onore italiano in giro per il mondo e Ilaria Salis Salvini già sogna un confronto tra i due estremi opposti l'antifascista militante contro il fustigatore del mondo al contrario ha conferma che sulla candidatura del generale alle prossime europee proverà a puntare tutto nonostante i malumori di chi vorrebbe una campagna a difesa di candidati dichiara fedeleghista specie alla luce del fatto che gli eletti saranno un terzo delle scorse europee quando Salvini portò la Lega oltre al 34% io da militante della Lega dico che alle prossime elezioni europee voterò chi ha una storia all'interno della Lega il voto come battaglia civile o culturale per mobilitare un elettorato sempre più stanco a sinistra come a destra Giuseppe Conte punta molto sull'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico e su Giuseppe Antoci simbolo antimafia spero di portare il patrimonio della mia esperienza Elislein ha sfidato le resistenze interne al partito sulla candidatura dell'ex direttore pacifista di Avvenire Marco Tarquinio e al nord ovest schiererà Cecilia Strada la figlia del fondatore di Emergency civici in campo per mostrare plasticamente agli elettori che la politica può avere un'altra faccia non solo quella dei cacicchi funzionerà? Intanto onorevole Ricciardi l'Alleanza Verdi e Sinistra in Italia è diciamo nel vostro campo campo campetto non lo so come lo vogliamo chiamare però insomma dovrebbe essere campo progressista sta bene è una buona idea? Io non entro nel merito delle decisioni di Alleanza Verdi e Sinistra loro hanno fatto le loro valutazioni e ritengono di presentare questa candidatura quel che è certo che sul caso Salis un tema è da rilevare e cioè che il governo italiano ha deciso di impegnarsi e provare a sollevare questo tema ma soltanto quando è stato sollevato dalla stampa cioè questo è il problema da 11 mesi l'area Salis era in carcere e soltanto dopo 11 mesi dopo anche noi del Movimento 5 Stelle abbiamo presentato interrogazioni per far presente il tema che cioè si stava anche in violazione dei diritti di una persona che si trova di fatto in Europa in carcere in Europa e quindi soltanto quando poi si è temuta questa possibile diciamo conseguenze da un punto di vista mediatico a quel punto il governo si è svegliato con un colpevole ritardo detto questo io non voglio entrare comunque nelle candidature che fanno gli altri partiti penso alle candidature di nomi di alto profilo come ad esempio Pasquale Tridico ex presidente dell'Inps penso a Bigeri che invece è ex presidente di Banca Etica e Antoci campione di antimafia sono questi nomi che noi porteremo alle europee e preferirei sinceramente concentrarmi sui nostri candidati poi ognuno è libero di candidare chi vuole per carità è evidente che ognuno è libero di candidare chi vuole ed è evidente che uno parla più volentieri dei suoi candidati detto questo questo è un fatto sta accadendo un fatto perché un partito che è nella nostra parte diciamo è nel campo dei progressisti sceglie di candidare una persona per mandare un segnale probabilmente anche all'Europa e poi per fare una mossa che loro dicono è a difesa dei diritti di Dalia Salis perché magari l'unica mossa possibile è tirarla fuori dal carcere quindi uno su questo un'opinione ce la può avere no no certo assolutamente è una legittima decisione ci mancherebbe altro Sandro allora io non amo le bandierine in generale per quanto riguarda alleanza verde sinistra credo che le bandierine a loro abbiamo portato una sfortuna terribile perché l'ultima è il suma oro che diciamo è andata malissimo e quindi non so come a chi sia venuta l'idea di ritornare su una bandiera diciamo esterna alla storia del movimento e di candidare diciamo una persona di questo tipo credo siano sbagliate anche le candidature di Vannacci di Tarquinio una serie di bandiere che creano problemi all'interno del partito più che forse creano più problemi che portare voti di quanti non ne risolvono il fatto che porta voti Vannacci per quanto riguarda l'area Salis credo anche che la candidatura possa avere dei contraccolpi negativi sulla sua situazione giudiziaria perché non è detto che ci sia la scarcerazione automatica perché comunque ci deve essere un voto del Parlamento europeo e non è detto che il Parlamento europeo dia un voto positivo nel frattempo questa cosa indispettirà ancora di più l'Ungheria che già mi sembra abbastanza indispettita da questa campagna politica che c'è in Italia e quindi tu dici può diventare un boomerang secondo me per i verdi sinistra diventa un boomerang sicuramente comunque in generale il mio giudizio è abbastanza negativo su tutte le bandierine di cui stiamo parlando in questi giorni perché non ritengo che porteranno grandi vantaggi a nessuno per motivi diversi non porteranno grandi vantaggi fatemi sentire Salvini sulla questione Salis Vannacci sentiamolo io rispetto le scelte democratiche di tutte quindi se una persona che attualmente è purtroppo detenuta in Ungheria vuole candidarsi con la sinistra in Europa libera di farlo spero che il generale Vannacci accetti di essere candidato con la Lega perché mi piacerebbe un confronto fra un uomo che ha portato ordine sicurezza e onore italiano in giro per il mondo e Ilaria Salis arrivo da Roncone e da Nevi Alessio l'uomo che ha portato ordine e decoro per usare le parole di Matteo Salvini in giro per il mondo rappresentare l'Italia cioè Vannacci annuncia che deciderà a giorni se candidarsi o no allora è possibile lo ha detto poco fa ad Affariitaliani tutti i giorni annuncia che deciderà Fabrizio che vuol dire? non lo so non lo so io trovo adesso lo dico proprio con grandissimo rispetto perché poi chiunque naturalmente può decidere di candidare chiunque ma c'è una differenza sostanziale tra la candidatura della Salis e la candidatura di Vannacci e la Salis io sono d'accordo con quello che dice Sandro cioè rischierà probabilmente questa vicenda giudiziaria rischia di incartarsi io temo con la candidatura invece che risolversi però ha uno spirito la candidatura cioè togliamo questa donna da una situazione di stampo medievale diciamo così no? la candidatura di Vannacci è la candidatura su alcuni valori che sono francamente inaccettabili dal mio personale punto di vista ma non solo dal mio personale punto di vista anche dal punto di vista di Zaia di Centinaio di Molinari che gliel'hanno fatto capire in tutti i modi a Salvini questo signore non gli piace manco ai vertici leghisti neanche ai colonnelli della Lega piace questo signore ma naturalmente non il generale quello che dice il generale quello che pensa della società come si immagina l'Italia il generale all'establishment leghista non piace non piace assolutamente io credo che sia probabilmente questa scelta credo che sia l'ultima che vedere con il problema Nevi scusami è il problema Forza Italia è la carta della disperazione di Salvini che ha gli stessi sondaggi che abbiamo tutti li legge come li leggiamo tutti e capisce che è la carta vannacci che lo può salvare dalla sconfitta spera che possa essere la carta vannacci a salvarlo dalla sconfitta che possa salvare Nevi la Lega da quel sorpasso che voi auspicate e loro temono mi pare che questo sia il punto noi auspichiamo di prendere più voti possibili alle elezioni europee abbiamo deciso di non ricorrere a bandierine ma di ricorrere alle nostre idee ai nostri progetti per fare in modo che l'Europa sia più vicina al mondo soprattutto del produttivo al mondo industriale al mondo della solidarietà sociale nei confronti dei più deboli e quindi in Europa più forte più solidale più attenta ai bisogni di sicurezza dei cittadini più attenta al tema delle migrazioni dell'immigrazione in particolare più attenta al tema della difesa comune ecco su questo noi non giudichiamo chiaramente gli altri le altre candidature sono molto d'accordo con gli acometti insomma io penso che queste operazioni insomma lasciano un po' il tempo che trovano perché mirano a mascherare un po' mi riferisco soprattutto alla Salis una debolezza forse anche di idee da parte di una sinistra che è oggettivamente in difficoltà soprattutto alleanza verde e sinistra dopo il caso Sumaoro adesso non c'è nessuno di alleanza verde e sinistra però diciamo ce lo ricordava prima Fabrizio Roncone la razio di quella candidatura è quella di provare a tirarla fuori da lì e anche rimandare un messaggio considerato che l'Ungheria di Orban è in Europa segnato e le condizioni sono quelle che non c'è stata una competizione pure nel centro sinistra per chi si intestava la candidatura della Salis perché ci ha provato anche Lichlein sembrava che a un certo punto si è incontrata col padre bisogna capire la scelta anche che ha fatto la Salis che potrebbe aver preferito l'alleanza verde e sinistra piuttosto che il PD però quella è diventata negli ultimi tempi una bandiera di tutta quell'alleanza di centro-sinistra sia del PD che di alleanza verde e sinistra a fare il pellegrinaggio a Budapest sono andati anche parlamentari del PD quindi era comunque un tema però guarda che c'è una spaccatura fortissima dentro il PD quando la Schlein si siede col padre della Salis c'è mezzo PD forse più di mezzo PD che è contrario alla candidatura ma anche su Tarquinio c'è una spaccatura enorme però Tarquinio sembra che vada avanti la candidatura certo anche la Salis è divisiva sembra anche sulla Salis è divisiva però aver preso la Salis diciamo c'è stato anche un gioco allora non credo che per alleanza verde e sinistra sia solo una questione di ideali e di principi sinceramente credo che sia una questione di opportunità politica e molto spesso negli ultimi anni la sinistra ha utilizzato delle figure che pensava evocative e simboliche per il suo mondo per tentare di attirare elettori allora questo pomeriggio ci ricordava Luca che arrivano in Basilicata i tre leader del centrodestra i quattro perché ci scordiamo sempre Luca eh sì Luca Lupi e però Matteo Salvini mi sa che è già là o comunque è andato a Melfi ieri e l'ha seguito per noi Daniela Volpicina questo governo che gli italiani hanno scelto va avanti per tutti e cinque gli anni della legislatura non un minuto di meno provano ogni giorno a farci litigare non ci riusciranno si rassegnino con Tela Schlein noi andiamo avanti fino al 2026 senza nessun dubbio sono un simpatizzante della vita e credo che possa fare ancora molto per la Lucania e tutti noi cittadini il campo largo del centrosinistra vi darà un po' del filo da torcere ma no è una cozzaglia e non vedo l'ora che arrivi lunedì pomeriggio sarò in ufficio al ministero a Roma paese per paese per festeggiare la vittoria del centrodestra in Basilicata e un grande risultato elettorale della Lega a partire da me diciamo adesso ci sono le elizioni regionali e si lavora in gruppo però doveva distaccarsi cioè dalla Melone e da qualcun altro allora secondo me poteva anche guadagnare più consenso Salvini di cosa ha bisogno la Basilicata? c'è questo problema di Stellandis perché se si ferma Stellandis qui andiamo tutta a testa in giù Melfi una volta era il tempio dell'auto per colpa dell'Europa rischia di essere il tempio del monopattino elettrico cinese fra un po' l'Europa della tassa sulla casa e della messa al bando delle auto di sale e benzina non della mia Europa allora arrivo da tutti però onorevole Ricciardi parto da lei perché secondo i sondaggi di qualche mese fa la Basilicata era tra le regioni quella più contendibile ma in questo momento non lo è più che è successo che pasticcio avete fatto come campo largo in Basilicata? guardi il discorso è che il campo che noi appunto definiamo progressista è un campo che non è costante o meglio mi spiego bisogna andare a vedere le persone che possiamo candidare e i temi che si devono affrontare e quindi ogni volta c'è un lavoro dietro che va fatto per trovare una sintesi sui temi che si vogliono portare quindi è chiaro che non facciamo come la destra che si unisce pur di vincere abbiamo chiaramente delle conseguenze a cui si va incontro e cioè che appunto si arriva poi a dover decidere magari in tempi un po' più stretti però l'importante è che poi siamo convitti e compatti nel momento in cui ci troviamo a presentarci e quindi adesso nel caso della Basilicata noi abbiamo portato un candidato credibile quale Marrese presidente della provincia di Matera e con questo candidato vogliamo portare avanti un'alternativa a quella che è il governo attuale della destra un'alternativa che punti al rilancio della sanità al rilancio delle infrastrutture purtroppo in Basilicata sappiamo quanto sia difficile collegarsi da un paese a un altro quanto sia difficile raggiungere l'ospedale più vicino io penso mia madre è di origini lucane e c'è il paese dove origina dista 45 minuti dal primo ospedale che è l'ospedale di Villa d'Agri ora per arrivare a Potenza ci vuole quasi un'ora e quindi nel momento in cui ci si trova di fronte a un'emergenza è difficile poter raggiungere il presidio più vicino e quindi su questo bisogna intervenire in secondo luogo tanti cittadini della Basilicata si spostano per poter trovare risposta al proprio bisogno di cure fuori dalla Basilicata e vengono nel Lazio vengono in Campania e quindi su questo bisogna sicuramente intervenire il programma che noi portiamo avanti in Basilicata punta anche a questo quindi sicuramente diciamo abbezzo rigiro a te la domanda i sondaggi di qualche mese fa dicevano che la Basilicata era contendibile adesso la destra sembra in grande vantaggio è merito della destra è solo merito della destra è demerito del campo progressista senti dovresti fare una puntata intera per raccontare quello che è stato capace di fare il centro-sinistra nel gioco delle candidature della Basilicata hanno fatto un pasticcio che la metà basta quindi è chiaro che poi il centro-destra si schiera ha sentito Salvini ha ragione Salvini dice noi governeremo fino al 2027 ma certo perché se a ogni tornata elettorale il centro-sinistra il cosiddetto campo largo come dice l'onorevole campo progressista si spacca e se ogni giorno Conte dice il contrario del giorno prima pur di mettere in difficoltà la Schlein e se la Schlein è in cassa invece di dire a Conte guarda facciamo una cosa ognun per sé ma per sempre ma è chiaro che il centro-destra ha un vantaggio straordinario cioè Nevi praticamente non deve fare altro che osservare però guardi il discorso aspetti aspetti voglio sentire l'onorevole Nevi ma no guardi ma guardi il problema è che non è una novità che il centro-destra sia unito noi siamo uniti ovunque perché noi siamo un'alleanza che parte dal livello nazionale e che arriva sui territori con una visione unica e omogenea certo delle differenze un po' meno in Veneto in questo momento però sono dettagli anche in Sardegna qualche problemino c'è stato guardi guardi facciamo però ma in Sardegna è il passato facciamo una scommessa in Veneto diciamo c'è un momento di difficoltà che si andrà ma possiamo fare una scommessa noi andremo uniti ovunque come è stato fatto fino ad oggi dopodiché chiaro in alcune zone possiamo essere più forti meno forti questo dipende da tanti fattori anche locali come è successo in Sardegna ma quello che conta è che il centrodestra è un'alleanza unita coesa omogenea che come dice giustamente Salvini governa senza problemi anche questa visione che insomma il centrodestra è attraversato da guerre fratricite all'interno è una visione che è veramente realmente lontana dalla realtà perché noi siamo assolutamente uniti coesi andiamo avanti governeremo allora diciamo qualche terreno di scontro qualche segnale che non tutto va benissimo adesso va bene onorevole va bene la campagna elettorale lei fa il suo mestiere però adesso che ci debba venire a raccontare alle 3 e 30 quasi 3 e mezza che andate d'amore e d'accordo quando il principale oppositore la Meloni ha un solo oppositore in questo paese MS che non è nel Movimento 5 Stelle nel PD è Salvini lei ci viene a raccontare che andate d'amore e d'accordo abbia pazienza per esempio per esempio l'emendamento sui consultori la 194 eccetera chi è che si è astenuto si sono astenuti 15 parlamentari della Lega anche lì un segnale è arrivato fatemi sentire le parole di Giorgio Meloni sul punto l'emendamento che è stato presentato decreto PNRR anche qui ricalca esattamente il testo della legge 194 la legge 194 lo prevede va bene la legge 194 non va perché sa che cosa penso io io penso che in realtà quelli che vogliono modificare la legge 194 siano a sinistra perché noi non abbiamo mai proposto di modificare la legge 194 ma quando chiedi l'applicazione della legge 194 in tutto anche nella prevenzione perché la legge 194 è una legge di estremo equilibrio una legge ben fatta ci si straccia le vesti e allora si deve però anche avere il coraggio di dire le cose come stanno si vuole modificare la legge 194 non sono io a volerla modificare gli altri la vogliono modificare ce lo dicano e se ne assumano la responsabilità ho pochissimo tempo però voglio sentirvi tutti a partire dalla domanda che faccio a Sandro se ricalca perfettamente la 194 che bisogno c'era di fare un emendamento prima domanda la domanda delle domande stavamo parlando delle astensioni no 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 voglio capire se è uguale uguale che bisogno c'è dell'emendamento? perché perché fai una cosa se quella cosa dici che non cambia nulla? guarda questo tema non lo sai ho trovato Sandro impreparato non è che non lo so questo tema secondo me è molto delicato e bisogna andare con i piedi di piombo credo che la legge preveda quel tipo di intervento quindi non hai bisogno di metterlo nero su bianco di nuovo il tipo di intervento che però non è mai stato come allora la patente appunti era prevista dal dal 2016 da Renzi da quando è stato creato l'ispettorato nazionale del lavoro nessuno l'ha mai attuata l'ha attuata al governo di centrodestra due settimane un mese fa allora la patente appunti c'era già nella legge sull'ispettorato nazionale del lavoro però nessuno l'aveva fatta quindi credo che ci sia la possibilità di attivare questi servizi previsti dall'emendamento che erano previsti dalla 194 ma non erano stati attivati chi li rende disponibili questi servizi perché diciamo tutti noi sappiamo che mancano gli assistenti sociali che mancano i psicologi che mancano persino i consultori che i numeri sono molto ridotti rispetto a quello che dovrebbe essere allora magari lavora su quello invece di mandare le associazioni le quali Tiziana vanno all'attacco della commissione europea oggi un portavoce della commissione europea commentando l'emendamento del governo ha detto che le misure dell'Italia sull'aborto sono estranee per materia un decreto sul piano nazionale di ripresa e resilienza non hanno alcun legame con il piano e secondo l'associazione provita e famiglia la commissione europea si è fatta influenzare dalle fake news che vengono veicolate dall'Italia e dalle opposizioni onorevole Ricciardi veicoliamo fake news ma guardi il problema è che la posizione della destra a mio avviso è stata chiara già dallo scorso anno quando la ministra Orcella si trovò a dover rispondere alla domanda le donne sono libere di scegliere lei rispose purtroppo sì cioè loro con questo emendamento hanno voluto modificare la legge 104 nei fatti permettendo l'accesso agli antiabortisti nei consultori ora le donne per poter essere davvero libere di scegliere hanno bisogno di due cose servizi e un lavoro che non sia sfruttamento per poter accedere liberamente a questa scelta hanno bisogno che gli obiettori di coscienza non siano nella maggior parte degli ospedali o meglio bisogna permettere l'obiettori di coscienza ma bisogna garantire questo diritto non è possibile che l'80% degli obiettori di coscienza in un ospedale quindi soltanto quel 20% dei medici si trova a dover fare soltanto che produce il fatto che tu anche spesso abbia bisogno di andare in altre regioni per riuscire ad esercitare quel diritto e poi il lavoro che è sfruttamento nel momento in cui una donna si trova a dover decidere tra vita lavorativa e vita familiare in questo momento è fortemente messa in difficoltà vengono tagliati gli asili nido onorevole Nevi i problemi sono altri e invece si vuole incidere sulla 194 ma no nessuno vuole incidere sulla 194 e Forza Italia sarebbe assolutamente contraria a toccare la 194 però è strano si sono astenuti quelli della Lega e voi invece avete votato a favore dell'emendamento uno solo di Forza Italia si è astenuto uno noi abbiamo votato contro l'ordine del giorno e non l'emendamento sui quali si sono astenuti alcuni colleghi di Forza Italia o meglio ha ragione lei c'era l'ordine del giorno del partito democratico che diceva ovviamente non si tocca vero la 194 di cui ma avete votato anche contro a fare entrare allo strumentale era strumentale l'ordine del giorno pronto? si prego prego era strumentale quell'ordine del giorno noi abbiamo votato contro nel merito nessuno ha toccato la 194 si è fatto un emendamento per specificare l'importanza dell'inserimento delle associazioni nel terzo settore non dei provita come tutti dicono cioè non c'è scritto in nessuna parte associazioni nel terzo settore nei consultori per fare in modo che la scelta della donna sia autenticamente libera libera magari anche da qualche condizionamento di tipo economico per esempio no no assolutamente ma ci mancherebbe altro libera sono dispiaciuta di non avere il tempo diciamo di entrare nel merito mi piacerebbe moltissimo Fabrizio di chi stiamo parlando? stiamo parlando della 194 che non mi pare l'emergenza di questo paese l'emergenza di questo paese è la sanità che ha lo sbando ci sono milioni di italiani che non riescono a curarsi e il governo si interessa della 194 e allora però forse è un segno forse è un messaggio perché probabilmente di questo si tratta Alessio novità importanti dal Meglio Oriente Tiziana apertura di Corriere.it Teheran nell'attacco usati mini droni statunitensi o israeliani un attacco che però non ha sortito effetto lo confermano i parlamentari iraniani c'è stata una riunione poco fa del comitato per la sicurezza nazionale e un uomo minaccia di farsi esplodere nel consolato iraniano a Parigi è stato fermato è stato arrestato la notizia è stata data anche quando l'operazione era conclusa e pare sia in corso un attacco hacker di Anonymous alle forze ai siti delle forze militari israeliane il clima è questo grazie a tutti gli ospiti ci fermiamo per qualche minuto dovrebbe già essere arrivato Gianrico Carofiglio eccoci qua di nuovo in studio sono molto contenta di ritrovare sul divano rosso sono venuta qua pure io Gianrico Carofiglio scrittore sono contento di essere qui grazie tra l'altro in libreria con una nuova storia di uno dei personaggi più amati anche da me devo dire l'avvocato Guerrieri molto contento il titolo è l'orizzonte della notte per i tipi di Einaudi sì beh è il settimo romanzo della biografia di Guido Guerrieri io la chiamo così perché c'è chi dice serie saga tutte espressioni o inesatte o un po' in fatiche saga sa un po' di Nibelunghi e non è il caso però sì sostanzialmente è un racconto biografico di un personaggio di fantasia quindi ogni singolo romanzo è un capitolo di questa biografia che naturalmente è condizionato al fatto che ci sia un'evoluzione esistenziale non semplicemente una trama giudiziaria che pure accompagna questa è l'ultima la penultima ne avevamo parlato no? in questa sede sì ne abbiamo parlato la penultima era la misura del tempo e certamente introduceva dei temi di avvicinamento a quelli che in questo sono molto fortemente direi drammaticamente presenti perché questo è un romanzo in cui il protagonista fa i conti davvero col tempo che passa però già lì lo psicologo insomma c'erano degli elementi importanti e quest'idea diciamo così della ricerca interiore che qui è resa proprio esplicita dall'andare da uno psicanalista è fare i conti con la propria ombra con il se stesso che cambia quello che noi molto spesso non facciamo diciamo allora il romanzo è ambientato a Bari? il romanzo è ambientato a Bari già ho paura quando sento questo lo so lo so perché un po' abbiamo parlato di Bari in questi giorni appena appena tra l'altro c'è una piazza abbiamo visto in quella piazza De Caro abbiamo visto Emiliano insieme a De Caro poi qualcuno ha pensato che era meglio evitarsela quella piazza qualcuno che è stato commesso qualche errore diciamo che c'è stata anche un po' di sfortuna io faccio solo questa annotazione che non minimizza in nessun modo diciamo i fatti gravi che sembrano emergere dalle indagini anzi faccio due annotazioni uno che sono fatti diciamo diversi fra loro per gravità per provenienza e ovvio che se li metti insieme in un cluster temporale sembrano l'espressione di un unico fenomeno in parte forse lo sono però forse bisogna un pochettino allontanarsi e guardare in prospettiva la seconda annotazione chiedetevi cosa sarebbe successo se un'analoga sequenza di iniziative giudiziarie fosse stata adottata in una regione governata dalla destra che cosa staremmo ad ascoltare questo non è irrilevante il fatto che da parte del partito è bastato che ci fosse diciamo un'inchiesta in Sicilia che ha coinvolto un esponente della Lega perché noi sentissimo ritornare la questione si era passato da un partito all'altro ma insomma in questo momento l'espressione della Lega al sud appunto in Sicilia e abbiamo subito recuperato la giustizia d'orologeria cioè ci sono degli elementi che sono sempre verdi la Sicilia è un luogo di orologi e invece la Puglia no secondo questa prospettiva ovviamente non ci mettiamo a discutere su questo perché la banalità demagogica di queste impostazioni non merita troppi commenti quello che invece richiede un'analisi attenta è al di là diciamo così delle letture un po' estemporane e della unificazione di varie cose sotto diciamo così il cono di luce di un unico fenomeno vedere qual è il problema se c'è un problema il problema naturalmente c'è e come si chiama il problema si chiama assenza di politica e quando dico assenza di politica intendo dire che in questo paese e in particolare alle forze diciamo progressiste occorre una rivisitazione seria dell'idea di partito come strumento di selezione delle classi dirigenti perché altrimenti ti prendi tutto e arriva anche il trasformismo ma sì naturalmente arriva il trasformismo ora nessuno dice che sei stato eletto da una parte a un certo punto cambidee vuoi andare da un'altra questo va benissimo deve omesserci però delle regole che impediscano la ricompensa di questi comportamenti è molto semplice in questa maniera si garantirebbe quando c'è non spessissimo la mutata opinione sulle cose della politica senza suggerire molto spesso con fondatezza che questa mutata opinione dipenda da un calcolo personale dopodiché arrivano le inchieste in Puglia e si rompe l'incantesimo per l'ennesima volta mi verrebbe da dire tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico non c'è mai stato un incantesimo e però c'è qualcuno che si ostina a pensare che ci dovrebbe essere l'incantesimo ma no io mi ostino a pensare che ci vorrà e io credo che ci sarà un accordo di tipo elettorale quando si tratterà di votare per composte in gioco molto più alte quell'accordo di tipo elettorale che non c'è stato nelle scorse elezioni e questo è stato un grave errore perché io avevo guardato dei calcoli analitici se solo ci fosse stata la desistenza non l'accordo elettorale oggi staremo parlando di tutt'altro governo di tutt'altra maggioranza e via discorrendo quindi per le politiche bisognerà razionalmente valutare come comportarsi esattamente perché insomma la politica ovviamente ha e deve avere dei confini che sono confini etici e pratici ma all'interno di quegli confini è necessario avere senso per l'appunto pratico e avere chiaro come posso dire chiaro la gerarchia degli obiettivi e insomma è ovvio che se uno va separato con una legge elettorale come questa sta regalando il governo agli avversari uno può anche dire va bene così siamo così diversi da preferire che vada a governare la destra piuttosto che andare insieme al voto per poi decidere in un Parlamento siamo ancora grazie al cielo una Repubblica parlamentare come aggregare le maggioranze la politica è questo la politica è senso pratico la politica è muoversi anche in un terreno fangoso se mi si passa l'espressione avendo chiari gli obiettivi che sono obiettivi di valori e obiettivi di futuro questo manca quando dico che manca la politica dico che manca un racconto del futuro però se è così diciamo intanto in vista dell'Europa è inutile stare a ragionarci perché come sappiamo il sistema è proporzionale ognuno corre per sé e ha bisogno anche di far sapere agli elettori di andare per proprio conto penso che sia questo e questo è abbastanza evidente ma bisogna dire vabbè uno si tappa le ore in apnea non senti niente fai finta di non sentire di non vedere dopodiché nel frattempo c'è questa piccola sfortuna che ci sono state ancora ci sono elezioni regionali certo e quindi uno doveva dare per scontato che era tutto perso cioè tolta la Sardegna dove il candidato casualmente era il candidato del Movimento 5 Stelle secondo me è una definizione anche banale un po' tritta però la politica è l'arte del possibile bisogna continuare a parlare bisogna evitare di formulare affermazioni inutilmente categoriche tanto comunque non vengono rispettate e bisogna cercare le soluzioni entro confini etici e pratici sentivo della situazione delle prossime elezioni comunali a Cagliari dove mi viene detto che c'è un campo non largo larghissimo odio l'espressione campo largo ma ci sono tutti quanti perché non si capisce cosa c'è nel campo largo ma non importa ma il campo largo è un'espressione molto brutta è un'ennesima dimostrazione della come posso dire fragilità comunicativa della sinistra in Italia ecco se uno cominciasse a trovare i nomi giusti per le cose forse qualche passo in avanti verrebbe fatto però io mi chiedo più che altro diciamo mi interrogo rispetto all'elettore ad esempio del partito democratico e mi chiedo l'elettore del partito democratico forse cominciano loro a farsi delle domande nel senso che adesso per esempio la basilicata lo dicevo prima con i miei ospiti lo dicevo prima all'esponente del Movimento 5 Stelle era una regione contendibile oggi sembra non esserlo più a due giorni dal voto rispetto a questo forse una domanda io più che la domanda dico ci vuole un sacco di pazienza ovviamente ci vuole un sacco di pazienza ma è davvero così forse è uno dei motivi per cui io non faccio politica attiva forse non ho abbastanza pazienza ma sono abbastanza consapevole per sapere che bisogna a volte devi prendere gli schiaffi e te li devi tenere e devi andare avanti perché la questione fondamentale ripeto è quali sono qual è la costellazione di valori e di obiettivi cui si mira e poi bisogna soppesare ciò a cui uno è disposto a rinunciare anche a volte in termini di sano desiderio di dire a qualcun altro di andare a quel paese e ad un certo punto arriverà l'8 e il 9 di giugno e quindi scavalleremo le europee ma come ci arriviamo a questo europee ad esempio ci arriviamo con alleanza verde e sinistra che candida Ilario Salis è una buona notizia? non lo so è una cosa che ovviamente mi lascia perplesso adesso inizierò a dire una serie di banalità siamo tutti disgustati dalle scene che abbiamo visto non si dice abbastanza che per quel tipo di reato ammesso che lo abbia commesso in Italia non sarebbe stata un solo giorno in carcere questo è anche sbagliato probabilmente perché forse da noi sono puniti in maniera eccessivamente mite certi reati diciamo con violenza sulle persone ma la sproporzione enorme fra come è sanzionato in un paese dell'Unione Europea cioè in questo modo mite in Italia e come enormemente spropositatamente in un altro paese perché immaginiamo che abbia commesso quello che le viene attribuito dico immaginiamo non lo sappiamo è una scazzottata un pestaggio cosa è secrabile per la quale una pena corretta può essere uno, due, tre anni di carcere cioè quello più o meno che ha in parte già fatto non gli undici anni che il pubblico ministero di quel paese pretendeva diciamo lei accettasse per dare il parere favore come patteggiamento questa è una roba bestiale e quindi queste premesse sono necessarie per dire che ci troviamo di fronte a una situazione che mette molto in dubbio uso un eufemismo la nostra convinzione che quel paese appartenga rispetto ai canoni dello stato di diritto Salvini ha detto che lui non vede l'ora e visto che c'è candidata Salis dice ognuno fa come ritiene ma sarebbe interessante vedere un confronto tra Salis e Vannacce e le loro visioni del mondo tra Salis e Vannacce Salvini ha detto questo? non mi stupisce particolarmente insomma lasciamo perdere diciamo Vannacce che è stato incredibilmente beneficato dal fatto che ci siamo occupati troppo di lui il suo libro vendeva 20 copie al giorno su Amazon e dopo che giornali diciamo che peraltro se ne sono occupati questo signore è diventato moderatamente ricco con le vendite successive del libro ed è una di quelle cose che davvero non meritano la nostra attenzione cioè vi è una tale assenza di pensiero in quella roba lì che il fatto di occuparsene è una dimostrazione di come siamo distolti dalle questioni importanti per parlare delle non questioni attenzione questo io rispetto moltissimo il pensiero di destra e le posizioni di chi è genuinamente e democraticamente di destra ma lì non c'entra niente lì si tratta diciamo di una conversazione da bar nei contenuti ma anche diciamo stilisticamente a proposito delle cose importanti dopo di che per Salis io non so se l'avrei candidata onestamente ho qualche perplessità non ho nessuna certezza su questa vicenda non condivido per quello che ho percepito le posizioni politiche di Salis capisco però che in una situazione così grave come quella che si è venuta a determinare in Ungheria la candidatura possa essere un'occasione non lo so non ho un'opinione definita no dicevo a proposito di cose importanti quello che sta succedendo in Medio Oriente le chiedo una valutazione rispetto alla protesta che sta crescendo nelle università stamattina abbiamo visto a Napoli per il G7 che è in corso a Capri questi studenti che protestano che messaggio mandano e quali sono i limiti però di quel messaggio io faccio fatica diciamo così a leggere queste proteste come un fatto unitario anche se appaiono come un fatto unitario perché ci sono opinioni condivisibili e opinioni del tutto aberranti e non condivisibili quelle che diciamo attaccano Israele sì che è simplicita in questa maniera che sfiora certo a volte sfiora i territori dell'antisemitismo sono insopportabili le bandiere bruciate l'aggressione all'idea stessa dello Stato ebraico è insopportabile quando invece la protesta contro quello che sta avvenendo nella striscia di gas quello che sta succedendo che è una cosa inaudita inconcepibile è una protesta sacrosante quindi si tratta anche di calibrare gli interventi io ho qualche dubbio per esempio sul dire cessiamo facciamo cessare i rapporti fra le università perché secondo me quelli sono un veicolo di libertà e aprono piuttosto che chiudere la strada ai cambiamenti altro discorso sono i rapporti con l'attuale governo di Israele che è in gran parte responsabile di quello a cui stiamo assistendo grazie Gianrico Carofiglio voglio ricordare l'orizzonte della notte grazie ci vediamo presto presto ci vediamo presto grazie qualche minuto e torniamo eccoci qua di nuovo in studio saluto Ilenia Lucaselli fratelle d'Italia bentornata grazie buon pomeriggio Matteo Orfini partito democratico buon pomeriggio buon pomeriggio a voi Karima Mual giornalista bentornata grazie in collegamento Massimo De Manzoni condirettore della verità ben trovato Massimo buon pomeriggio grazie Alessio il nostro sondaggio puntata Tiziana abbiamo chiesto su Instagram chi ci sta seguendo l'immigrazione in Italia in questo momento è un'emergenza oppure no vediamo come avete votato sì 36% no 62% non ha idea un 2% e a proposito di migrazione Giorgia Meloni è stata in Tunisia vi faccio sentire che cosa ha detto sono qui insieme a una folta delegazione del governo italiano per siglare con la Tunisia alcuni importanti accordi dimostra ancora una volta quanto la collaborazione con la Tunisia sia per l'Italia assolutamente una priorità da molti punti di vista ed è anche un tassello del lavoro che l'Italia sta portando avanti con il piano Mattei per costruire con le nazioni del continente africano una cooperazione su base paritaria una cooperazione che sia finalmente vantaggiosa per tutti allora arriviamo ovviamente al merito però Orfini ha molto colpito anche il metodo no cioè questa specie di conferenza che però non è una conferenza giusto è un meccanismo che si ripete cioè una conferenza stampa senza giornalisti è fiction esattamente come il piano Mattei è fiction quindi ah cioè lei dice che il metodo e il merito stanno insieme in questo caso siccome non si può rispondere alle domande perché non c'è una risposta si evita il confronto dei giornalisti Luca Selli le risposte ci sono e il premier le ha già ampiamente date ma del resto le risposte sono nei fatti quindi negli accordi che sono stati sottoscritti e soprattutto negli effetti di questi accordi perché in realtà guardando i dati dei processi migratori mese su mese siamo a meno 67% per questo evidentemente poi gli italiani non lo percepiscono come un problema perché si sta risolvendo salvo che non è dovuta volare a Tunisi perché nell'ultimo mese c'è il 300% di aumento dei flussi l'estate è viva l'estate è viva purtroppo l'estate è viva l'estate è viva l'estate è viva dire come sta dicendo l'onorevole di Fratelli d'Italia che il tema sull'immigrazione si sta risolvendo è una grande bugia io credo che bisogna anche dire un po' basta non bisogna esagerare già prima di arrivare il governo dicevano che avrebbero fatto questo blocco navale adesso per carità io non ho un pregiudizio su quello che fa il governo però bisogna fare anche un'operazione di verità è un problema che rimane attuale perché i flussi cosiddetti non si fermano con una mano bisogna fare un lavoro lunghissimo di accordi con i paesi e per il momento non basta la Tunisia sì però quello che sta provando a fare che qui nessuno mette in discussione ma da qui a dire che sta risolvendo non sta risolvendo nulla perché continuano ad arrivare e Giorgia Meloni è arrivata in Tunisia proprio perché per paura perché stanno di nuovo aumentando mi scusi onorevole stanno di nuovo aumentando Massimo De Manzoni all'inizio dell'anno c'è stato oggettivamente un crollo degli sbarchi siccome i dati vengono commisurati con i dati dello stesso periodo dell'anno precedente o degli anni precedenti allora diciamo noi siamo abituati a guardarli i numeri e i primi mesi dell'anno ci dicevano che effettivamente c'era stato un calo drastico il mese di aprile si presenta come un mese nel quale invece c'è un'impennata di arrivi adesso poi vedremo che cosa succederà per il futuro ma è evidente che c'è una preoccupazione oppure no perché noi sappiamo che poi i flussi dipendono da una serie di fattori Massimo e a voler essere onesti intellettualmente noi sappiamo che tu puoi fare gli accordi e poi succede un fatto e quegli accordi saltano alla grande prego sono anche legati a situazioni meteorologiche certo le variabili sono molte ed è oggettivamente difficile dire abbiamo risolto il problema il problema non è che si risolva così facilmente però però è indubbio che c'è stato quel boom che avevamo avuto l'anno scorso era derivante soprattutto dalla Tunisia cioè dei flussi che arrivavano dalla Tunisia e questi si sono ridotti in maniera sensibile molto sensibile sono riaumentati in questo probabilmente anche per quello che il premier è andato di nuovo a Tunisia e queste cose funzionano così sappiamo sappiamo anche che cos'è c'è dall'altra parte non abbiamo regimi democratici particolarmente stabili da un certo punto di vista è chiaro che sei un pochettino anche soggetto a una forma di ricatto detto questo è l'unico modo nel senso che o fai veramente il blocco navale oppure passi attraverso gli accordi con i vari stati allora facciamo così vi propongo di seguirmi in un piccolo viaggio che racconta di noi noi abbiamo detto che Giorgia Meloni è tornata a Tunisi Giorgia Meloni ci ha spiegato che noi l'unico modo che abbiamo è fermare le partenze quindi c'è Tunisi poi c'è l'Albania arriviamo anche a quello ci sono vari accordi poi però c'è il tema di quelli che in Italia ci sono mettiamo sul tavolo tutte le questioni quelli che in Italia ci sono ad esempio si accalcano davanti alle questure perché cercano una regolarizzazione dei documenti ve lo faccio vedere e arrivo e arrivo ogni notte decine di migranti dormono sui marciapiedi all'esterno della questura di Firenze lo fanno perché sperano di essere tra i cinque fortunati che ogni giorno vengono ammessi per prendere un appuntamento per chiedere asilo politico a lo bambino quando ti hanno dato l'appuntamento 26 26 26 26 settembre hai l'appuntamento possono passare anche 9, 10, 11 mesi affinché questa domanda venga effettivamente formalizzata senza poter avviare l'iscrizione al sistema sanitario senza la possibilità di una presa in carico per le persone più vulnerabili penso alle persone che hanno subito torture nei paesi di origine nei paesi di transito penso alle vittime di tratta 26 settembre devi tornare alle 8 per perfezionare la richiesta di protezione internazionale ce l'hai fatta? ce l'hai fatta? sì ciao ciao carima cosa abbiamo visto? abbiamo visto uno scandalo abbiamo visto davvero di come fa acqua da tutte le parti quelle che sono le politiche dell'immigrazione che siano per fare cooperazione dall'altra parte che siano quelle che abbiamo nel nostro paese di persone che hanno diritto a quel permesso d'asilo che siano anche le persone regolari perché noi abbiamo ancora un paese che addirittura è indietro per quanto riguarda la legge sulla cittadinanza qui Tiziana ti ringrazio perché hai fatto vedere un pezzetto perché sono tantissimi pezzetti di questo puzzle di un fallimento sulle politiche dell'immigrazione nessuno si salva nessuno si salva anche coloro che hanno il diritto e allora io mi chiedo ma come è possibile non fare quell'operazione di verità come è possibile ossinatamente continuare su questa strada addirittura sprecando soldi perché si fanno accordi con altri paesi cioè noi stiamo appaltando altri per fare il lavoro che dovremmo fare noi perché noi credo che potremmo essere capaci di farlo no ma io diciamo provo a tenere anche diciamo faccio lo sforzo di tenere separate le due questioni Massimo aiutami perché vorrei provare proprio a fare un ragionamento più ampio cioè diciamo poi uno può condividere o non condividere l'idea che ha questo governo ma questo governo dice noi dobbiamo fare in modo che i migranti qui non ci arrivino ok il più possibile dobbiamo fare in modo che non ci arrivino ci arrivino quelli irregolari ci arrivino quelli irregolari che è una cosa diversa nessuno dice bene con i flussi eccetera eccetera poi bastano non bastano le imprese dicono che non bastano ma insomma quello è un altro capitolo ancora però diciamo che arrivino quelli irregolari noi decidiamo chi arriva e come lo facciamo lo facciamo facendo gli accordi con i paesi di provenienza poi bisogna vedere se funziona beh no gli accordi servono a bloccarli però per bloccarli perché non sono neanche gli accordi di provenienza no però dico l'Albania non c'entra è un'altra cosa però dico poniamo che quella sia una questione poi c'è un'altra questione che io sto provando a mettere sul tavolo e l'altra questione è le persone che sono qua non è che noi facciamo così e così ti ricordi quando eravamo bambini che fai così e quindi non senti e non vedi cioè quelli stanno qua allora quelle persone lì è uno scandalo e anche questo governo non può più dire vabbè ma stavamo già così perché un anno e mezzo che loro governano e quindi anche un loro dovere dare una risposta a quella situazione lì o no? il problema è che sono troppi e il sistema non li regge e quindi che fai? cioè fai finta di non vederli? e cos'è? ma sì non è che fai finta di non vederli fai le file però non sono troppi fai le file per forza di cose guardate che gli italiani hanno fatto le file alle 4 del mattino per rinnovare il passaporto fino a qualche anno fa e adesso ci provano a farlo telematicamente senza riuscirci abbiamo dei problemi strutturali con le questure perché le questure sono così sono un imbuto ma sono un imbuto anche per gli italiani ripeto provate a fare un passaporto e poi ne riparliamo il problema è che sono troppi se ne sono arrivati troppi e adesso un po' alla volta bisogna ma dov'è che esce questo dato del troppi? anche questa è una falsa qual è la soluzione? è una falsità questa però una notizia falsa non si è in grado di assorbirli ma non è vero che sono troppi ma è evidente il problema è che non si è in grado di gestire quello che ci ha li regolarizziamo tutti? qual è la soluzione? ma non c'entra questi sono persone che hanno diritto e devono essere gestite Orsini l'onorevole Orsini e poi arrivo ovviamente dalla Lucasse i numeri dicono che i numeri assoluti i numeri del ministero degli interni sono i miei siamo stabili da anni cioè non è che c'è un aumento delle presenze regolari nel nostro paese quelli sono ovviamente cambiano ci sono due ordini di problema lei ha fatto bene a tenere insieme i due aspetti il primo le misure di gestione dei flussi il meccanismo guardi lo dico l'abbiamo fatti noi gli accordi l'accordo con la Libia personalmente votai contro però diciamo ha fatto il mio partito e i miei governi non hanno funzionato come non funzionerà quello con la Tunisia perché banalmente hanno due ordini di problemi uno ti metti nelle mani dei dittatori cioè non è che è un caso che di punto in bianco ad aprile aumenta enormemente perché Sayed che è un dittatore riapre la Meloni va lì gli dà altri 100 milioni e lui richiude secondo pezzo di quel problema è che lì non sono rispettati i diritti umani cioè noi facciamo finta di non sapere che quelli che non partono vengono presi portati nel deserto donne e bambine abbandonate a morire di sete nel deserto ci sono è noto ma accadeva anche in Libia chiusi nei lager no no apprezziamo l'onestate elettorale Delfini che dice l'abbiamo fatto ma l'abbiamo fatto noi è ancora più grave farlo quando già quel modello alle spalle ha dimostrato che non funziona quindi io non credo che mettersi nelle mani dei dittatori che quindi ti ricattano costantemente sia la cosa quella non è una buona idea poi però c'è la gestione ora quelli che noi abbiamo visto sono richiedenti asilo protezione internazionale quindi persone che hanno diritto a entrare nel circuito dell'accoglienza non sono irregolari già sta nozione di irregolari non si capisce che vuol dire perché uno che richiede l'asilo entra in un circuito di legalità quelle sono persone che rispettano la legge vanno in questura ci vanno loro non è che li arrestano vanno lì a chiedere di fare le verifiche sì sì vanno fatte le verifiche certo ma quelli sono persone che richiedono asilo e bisogna fare le verifiche e quelli rispettano quindi vanno in questura chiedono fanno la procedura secondo le nostre leggi non è che si nascondono bisogna fare delle verifiche perché chiunque vuol dire io chiunque può chiedere può richiedere asilo poi sta a noi verificare se ci sono le condizioni per darglielo o dargli una protezione o no o reimpatriarlo nel momento in cui arrivano lì entrano in quell'imbuto perché nelle questure non c'è personale dedicato a queste cose non ci sono mediatori culturali perché tutto il meccanismo non funziona non funzionava neanche prima nell'alletico loro al governo è peggiorato lo dicono i dati in quest'anno e mezzo perché c'è un di più di disinteresse per far funzionare questo pezzo della macchina però è chiaro che quello che crea insicurezza è il fatto che non funzioni questo meccanismo perché uno che sta per sette mesi non si è detta molto soddisfatta ora io mi chiedo rispetto a noi paese di primo approdo e alla gestione delle persone che sono da noi e che chiedono cioè tutto quello che abbiamo visto lì cambia qualcosa per noi? ma sì cambia cambiano una serie di cose guardi allora il problema migratorio è un problema che si può risolvere soltanto in maniera strutturale quindi sul lungo periodo è chiaro che se noi immaginiamo di avere una risposta domani o entro un mese evidentemente saremo delusi perché questa risposta non ci può essere ora partiamo dalla Tunisia cerco di mettere un po' in ordine le cose che sono state dette sino a questo momento allora in Tunisia non è vero che gli accordi bilaterali non portano effetti non soltanto lo abbiamo visto l'avete detto voi prima in termini di numeri e quindi di partenze ma per esempio fra le cose che sono stabilite proprio a seguito dell'incontro che c'è stato con il premier Meloni oggi possiamo dire che 12.000 tunisini potranno entrare dopo la formazione in Italia in maniera regolare per venire a lavorare che non è un passaggio di poco conto proprio perché noi abbiamo la necessità non di bloccare semplicemente la migrazione noi dobbiamo regolarizzare quindi chi ha diritto deve poter arrivare in Italia in maniera regolare e poter essere veramente immesso in un circuito che diciamo virtuoso che poi porti all'integrazione e quindi al lavoro e a una serie diciamo di atti successivi cosa che sino a questo momento non c'è stato gli accordi bilaterali sono fondamentali causa bossi fini non c'è stato se vogliamo partiamo dai cipier come vorrei arrivare al punto di quello che c'è come va gestito il tema è che il problema migratorio che poi è inevitabilmente ricollegato al problema amministrativo della gestione ma queste due cose non sono sovrapponibili sì che sempliciter il problema amministrativo della gestione all'interno delle questure è un problema amministrativo che inevitabilmente deve essere risolto che è determinato da una serie di fattori e fra questi il principale sono il numero delle domande perché ovviamente se noi continuiamo ad aprire a tutti e quindi anche agli irregolari che non hanno diritto di rimanere in Italia per poter valutare scusa per capire come decidi che sono irregolari guardi allora iniziamo chiedo per capire senza polemica no senza polemica uno lo vede dice irregolare no appunto bisogna fare appunto bisogna fare delle verifiche bisogna fare delle verifiche e quindi inevitabilmente le verifiche portano via del tempo e se ovviamente all'interno di questo noi ci mettiamo qualunque cosa inevitabilmente i tempi saranno più lunghi ma all'interno di questo cosa? scusa Tiziana guarda allora quelli che arrivano sui barchini e quelli che non arrivano che non arrivano attraverso i flussi regolari e quindi diciamo in un sistema organizzato di arrivi inevitabilmente sono persone che arrivano sul territorio in maniera irregolare ma possono avere diritto all'accoglienza secondo le leggi nazionali e internazionali però bisogna fare una domanda si fa la richiesta poi la richiesta viene valutata da una commissione dopo la valutazione della commissione si passa alla questura ma questa è una procedura non soltanto italiana è una procedura europea e quindi fino a che c'è questa procedura non sono irregolari quindi guarda allora chi arriva su un barchino che non viene diciamo all'interno di un flusso regolare stabilito con gli accordi bilaterali stabiliti alle norme delle leggi arriva sul territorio nazionale in maniera irregolare cioè non arriva perché ha fatto la domanda alla patenza che è esattamente quello che ci stiamo cercando fermi fermi arrivo da Carina e anche da Massimo Devanzoni perché diventa regolare e mi scusatemi se scappa dall'Ucraino e scappa dall'Ucraino non può chiamare regolare una no devo far parlare tutti però vi dovete fermare un attimo Orfini e Lucaselli allora niente niente no vi dovete fermare un attimo no vi dovete fermare un attimo perché vi devo dire io una cosa facciamo così io provavo a farvi fare un viaggio non casualmente provo a farvi fare un viaggio perché poi in questo paese noi parlo da cittadina ci viviamo e quindi uno gli viene facile di chiedere ma il tema ad esempio di quello che succede davanti alla questura il tema ad esempio di quello che succede davanti alle stazioni come si può evitare allora aggiungo un tassello stazione termini perché poi se io sono com'è un irregolare e se per avere la mia regolarità per avere la mia regolarizzazione devo aspettare un tempo X è un bene o è un male per la collettività cioè per tutti noi fatemi vedere di meno di meno di un cani vivi così di meno di un cani vivono eh per troppo a pochi metri dalla stazione termini a Roma da anni c'è una tendopoli dove vivono decine di senza fissa dimora da quanto tempo stai in Italia? sono 30 anni sono dal 1991 sono venuto con mio padre e avevo 9 anni e mi trovo a 42 anni e mi trovo a mezzo alla strada com'è vivere per strada? troppo per quello di sì morì morì si muore? sì certo è giusto non hai un altro posto dove andare? c'è sta mille posti però loro non scrivere mai colpa di assistenza sociale ci sono i dormitori ma non ci fanno entrare perché non vi fanno entrare? fai la domanda è spetta vanno a simpatia perché? perché non c'è permesso di soggiorno perché tu senza un permesso di soggiorno qua non puoi vivere e tu hai provato a chiedere i documenti? certo adesso ancora se proviamo a chiedere i documenti? a chiedere i documenti? a chiedere i documenti? Non c'è di commento, non c'è letto, non c'è niente. Ciao amico mio. Karima. Intanto vorrei dire che all'inizio hai fatto una domanda precisa, cioè quello sul patto europeo sull'immigrazione al quale non ha risposto la deputata di Fratelli d'Italia. Mi dispiace ma non ha risposto in che cosa dovrebbe cambiare per noi Italia questo patto. Ebbene cambia veramente zero, perché questo dramma lo avremo ancora, perché il patto di Dublino non è stato superato, perché quindi gli arrivi non verranno condivisi così come dovrebbe essere tra tutti i paesi europei, perché non c'è di nuovo l'obbligatorietà e quindi non c'è nulla, non cambierà nulla. Quindi bisogna anche qui dire la verità a chi ci sta ascoltando. Dopodiché guardiamo queste immagini, immagini di degrado, immagini di persone come diceva quel signore che è qui dal 91 che ha perso il permesso di soggiorno e quindi si può trovare tra quelli che sono arrivati magari col barcone l'altro ieri. Questo è un dramma e nello stesso tempo però si parla di arrivi regolari, dimenticando che sì, sarebbe bellissimo avere tutti che prendono il visto piuttosto che il contratto, piuttosto che avere delle vie legali per chi chiede asilo. Ma nella realtà tutto questo non c'è, perché gli arrivi in Europa nella legalità sono chiusi. E' inutile che ci raccontiamo delle bugie, perché non ci sono vie legali per chi scappa da guerra, per chi scappa dalla povertà, perché ricordiamo che anche la povertà dovrebbe essere qualcosa di cui scappare, per chi scappa da crisi climatiche non c'è una via legale, quindi arrivano con i barconi, li mettiamo adesso, stiamo investendo in centri di detenzione, dove noi di detenzione, perché ormai stanno diventando questo anche con questo governo, dove spendiamo un sacco di soldi e dove, ascoltatemi molto bene, non c'è neanche la possibilità di poterci vantare oggi, anche come destra, di poterli rimpatriare, perché è difficilissimo. Allora io mi chiedo, siccome questo paese è un paese che ha vissuto l'immigrazione ormai da decenni, ma è un paese che ha regolarizzato a fasi, diciamo, alterne, con delle vere sanatorie, soprattutto il governo del centrodestra, e quindi nomino chi non c'è più, cioè Berlusconi, fece delle sanatorie che oggi stanno diventando tabù. E questo significa che noi avremo, e abbiamo tutt'oggi, 500 mila irregolari nelle strade che non hanno alcuna finestra. Allora, il punto qual è, Massimo? Anche se ci potrebbe essere l'opportunità per farlo. Il punto è che uno può avere qualunque idea ritenga sulla questione migratoria, però è evidente che se tu vivi in quella condizione è probabile che tu diventi più facilmente manodopera per la criminalità. Questo, diciamo, è evidente per tutti, no? Su questo non c'è dubbio, non solo manodopera per la criminalità, ma è una situazione di oggettivo degrado in una città, tra l'altro come Roma, turistica, ma venite a Milano davanti alla stazione centrale, scene della malavita tutti i giorni. Il problema, ed è il passaporto, cioè il biglietto da visita della città, lì sbarcano le persone e arrivano, ma il problema è, sentivano il servizio, che in Germania vivono, quei due turisti raccontavano che anche in Germania vivono situazioni simili. Il problema è esattamente questo. Noi abbiamo, negli anni, accumulato un sacco di persone che oggettivamente non avevano diritto di stare qui. La soluzione di Carima è regolarizziamo tutti. Quindi aboliamo le frontiere, chiunque può entrare in Italia... Ma guarda che lo hanno fatto anche altri. Non è un tabù, dovrebbe arrivare una... Bisogna prendere coscienza di capire che queste 500.000 persone non possono rimanere parcheggiate e diventare mano-balanza alla criminalità organizzata. Ma se volete farlo per carità, ma i risultati non è che siano stati vantaggiosi. Facciamo finire Massimo, è un collegamento ed è complicato per lui. Prego. Ho risolto con Carima, io non riesco mai a parlare. Perché lei deve parlarmi sopra? Non capisco perché. Vai, vai Massimo, vai. È tutto il tempo. Stavo dicendo, la soluzione qual è? Secondo lei, regolarizziamo. Regolarizziamo. Tu regolarizzi e da quel momento in poi sei finito. Perché a questo punto la pressione migratoria è assolutamente incontrollabile. Vengono tutti qui. Ah, cioè tu dici il meccanismo del condono, per capirci. Che la nostra Europa, che tanto coccolate, non ti dice esattamente il contrario, che non lo puoi fare. Non lo devi fare una roba del genere. Perché se tu li regolarizzi, tutti quelli sono in Germania dopo domani. E loro non li vogliono. È molto semplice. No, è molto semplice. È molto complicato. E questo lo capisco che è molto complicato. Però non possiamo neanche banalizzarlo proprio per quello. La soluzione non è regolarizzarli. La soluzione è cercare... E lasciarli pancheggiati nelle stazioni. Benissimo. Allora, no. La cosa che abbiamo pensato noi, onorevole Orfini, è ad esempio di puntare molto sui CPR. So, tra l'altro, che lei è stata a fare un giro. Anche noi ne abbiamo visto più di uno. E a questo punto la permanenza nei CPR arriva fino a 18 mesi. Quindi si allunga il tempo nel quale si viene trattenuto nei CPR. A cosa dovrebbe servire quel tempo in cui si sta lì? Non è un carcere il CPR, lo diciamo per chi è a casa. È peggio di un carcere. Perché dice che è peggio di un carcere? Perché non ci sono tutte le attività e le garanzie che ci sono in un carcere. Perché ci stanno dentro delle persone che non hanno commesso i reati tali da stare in carcere. Cioè sono dei luoghi di detenzione. Nel senso che da lì non puoi uscire? No, non è che non puoi uscire, però dentro ti diverti. Stai in una gabbia, in una gabbia dove non c'è nulla, senza facilità di collegamenti con l'esterno, senza attività perché quasi... E diciamo il tempo in cui tu sei lì dentro, in quelle condizioni, dovrebbe servire a verificare se tu hai o non hai diritto a restare? No, in realtà no, perché quelli sono centri per il rimpatrio in teoria. Cioè tu vai lì... Cioè tu sei già lì perché devi essere rimpatriato. Quindi bisogna aspettare il tempo di fare l'accordo col tuo paese, col quale paese quasi sempre non riesce. Con il quale non lo fai, perché il rimpatrio, e siamo tutti d'accordo sui rimpatri, però non so se avete i dati, ma di solito se ne fanno 3.000 l'anno su 150.000 persone che arrivano, numeri a spanne. Con i numeri che abbiamo ci dobbiamo mettere tipo 150 anni. Avete i numeri, bravissimi come sempre, secchioni come sempre. Con quei numeri lì è veramente il cucchiaino con cui provi a svuotare il mare. Quindi in realtà li tieni fermi 18 mesi e poi c'è un foglio con cui dici vai a casa. Pieni, detenute, tendenzialmente sotto psicofarmaci, perché vengono imbottiti di psicofarmaci, perché impazziscono là dentro. Cioè un po' di inchieste ci hanno detto questo. Esatto, ma anche noi siamo andati a fare un'ispezione e bastava vedere i registri medici, tanto è tutto registrato, stanno là dentro senza ragione. Cioè nel senso che non c'è un reato che hanno commesso per cui sono trattenibili a forza dentro una gabbia. Alcuni di quelli sono richiedenti asilo, quindi dovrebbero stare dentro il circuito dell'accoglienza dei richiedenti asilo. Però a Lucaselli... Faccio solo una domanda. Io non so se sei mai stata a fare un'ispezione nel Cipiere, in quale. Certo, io ho visto anche il centro di prima accoglienza a Taranto. No, su cose diverse. No, no, ti assicuro che anche lì la situazione non era... Siamo d'accordo, però il Cipiere è un'altra cosa. Quali? Io ho visti. Perché se no io ti invito anche insieme. Allora andiamoci insieme e dimmi se non è un luogo di detenzione, celebriamo le immagini di Ponte Galeria. C'eravamo stati anche noi, per esempio, per citarne uno, che è quello dove c'è stato un suicidio qualche mese fa. Queste sono le immagini dell'interno. Prego. Allora, no, stavate facendo vedere le immagini. Allora, è chiaro a tutti, no, che il problema migratorio è un problema. Ora, i CPR, perché su questo tema ritorniamo molto spesso. Allora, innanzitutto, mi viene da rispondere come risponderebbe qualcuno del Partito Democratico. È l'Europa che ce lo chiede. I CPR non è che ce li siamo inventati noi, governo Meloni. I CPR sono stati istituiti nel 98, turco-napolitano, dopodiché hanno avuto vicissitudine, hanno avuto diverse evoluzioni. Anche nella tempistica ci sono state diverse evoluzioni. Minniti, diciamo, aveva applicato le stesse regole, gli stessi principi che sta applicando adesso Piantedosi. Quindi, diciamo, c'è una conseguenzialità. Non è che siamo arrivati noi e abbiamo fatto i CPR perché non sapevamo cosa fare. Perché servono i CPR? Servono i CPR per, diciamo, due motivi fondamentali. Il primo è perché è una specifica richiesta alla quale dobbiamo dare seguito. Il secondo motivo è che nel processo di arrivo sulle nostre coste di identificazione, che sono i centri di prima accoglienza e poi, in questo caso, del rimpatrio, inevitabilmente ci deve essere un controllo e questo controllo non può che avvenire attraverso un sistema statale, un controllo statale, perché altrimenti dovremmo immaginare che semplicemente si dà il foglio di via e dobbiamo sperare che queste persone che non hanno diritto di rimanere sul territorio italiano vanno via da sole. Però lì ci dovrebbero andare, abbiamo detto, solo quelli che devono essere rimpatriati. No, per capire io. Lì ci devono andare quelli che già sappiamo che devono essere rimpatriati. E concludo il discorso. Per un tempo limitato a rimpatrio. 18 mesi. 18 mesi che è che ha aumentato. Nei CPR sono 18 mesi, ma, ripeto, è un'evoluzione, anche quella temporale, che va avanti dal 98. Non è una cosa che abbiamo aumentato noi. Perché l'alternativa è, come sentivamo prima, ma che, diciamo, agli italiani di andarsene in un altro paese e l'Italia la lasciamo per chi vuole venire e vuole essere regolarizzato così semplicemente. Sì, ma la finalità è rimpatriarli? Certo, la finalità è rimpatriarli. Perché se no la finalità è rimpatriarli là dentro chiusi e basta. Facciamo un liberi tutti? È un'alternativa ai liberi tutti? No, ma mi chiedo, semplicemente procrastiniamo. L'alternativa ai liberi tutti è quel degrado che voi avete fatto vedere prima. No, è l'opposto. È l'opposto. È che se smantelli il sistema di accoglienza si crea quello. Ma no, ma il sistema di accoglienza non è smantellato. Quando quei decreti di sicurezza di Salvini, ora lo so che litigate con Salvini, però... Sì, quindi non è che l'accoglienza l'abbiamo eliminata. Allora, i decreti flussi con l'accoglienza sono un'altra cosa. Quella parliamo, però non fa un casino. Scusami, perdonami. I decreti su flussi servono a far arrivare quelli regolarmente che avranno un contratto di lavoro e lavorano e quindi l'accoglienza... E quindi anche accoglienza. No, vabbè, c'è un po' di confusione. No, non è confusione. Dopodiché l'accoglienza è un'altra cosa. Nel momento in cui tu hai quelli che abbiamo visto che realisticamente, ma va verificato, hanno diritto e alcuni ce l'hanno davvero, ha la protezione perché scappano da una guerra, scappano dalle torture... Alcuni. Alcuni, ti ho detto, quelli che hanno diritto, che sono tanti comunque, sono tanti. Ebbene, mentre i verifici... Oh, madonna, mentre i verifici stanno dentro un circuito di accoglienza che voi avete smantellato con i decreti sicurezza di Salvini quando c'erano gli Sprar che non creavano quello schifo e che volevano piccoli nuclei distribuiti nei comuni che non davano fastidio a nessuno e si integravano, non li avete elevati per creare quel caos lì. Quando vai a Trieste, Trieste, governata da voi, quindi non è che dico... C'è il silos, quella struttura enorme dove tu... Quelli sono... Ma scusami, quando ci pede da si diminuiti... Noi abbiamo provato a mettervi sul tavolo il percorso a casa, un'idea ce l'avete, qualche elemento in più ve lo abbiamo dato. Alessio? Apertura di ansia.it in questo momento, l'Unione Europea, le misure dell'Italia sull'aborto, non rientrano nel piano nazionale di ripresa e resilienza. E io sento che torneremo su questo tema che mi è molto caro, molto caro. Dopo la pubblicità, arriva Valeria Parrella, grazie a tutti gli ospiti. Ci vediamo tra qualche minuto. Grazie a tutti.